I carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Vibo Valencia, con il supporto dei comandi provinciali di Reggio Calabria, Pescara, Chieti e Torino, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. La misura riguarda 14 indagati accusati di associazione di tipo mafioso armata, omicidio plurimo, concorso esterno in associazione mafiosa e altri reati gravi, aggravati dalle modalità e finalità mafiose come estorsione e coltivazione di sostanze stupefacenti, concorrenza illecita, turbata libertà degli incanti, rapina e reati in materia di armi. 13 dei 14 indagati sono stati posti in custodia cautelare in carcere, mentre uno è stato destinatario della misura degli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e condotta dai carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Vibo Valencia, si è avvalsa di attività tecnica, servizi operativi sul campo, acquisizioni e analisi delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, supportate da prove concrete e cooperazione internazionale con le autorità svizzere. Gli indizi raccolti hanno evidenziato l'attività criminale persistente della cosca d'Indrangheta del locale dell'Ariola, nell'area delle preserre vibonesi, con interessi economico-criminali estesi in Piemonte, Abruzzo, Svizzera e Germania. La gravità delle accuse include il triplice omicidio di mafia, noto come strage dell'Ariola, avvenuto il 25 ottobre 2003 a Gerocarne, in un contesto di lunga faida tra famiglie e rivali per il controllo territoriale. L'ordinanza cautelare ha ritenuto la gravità indiziaria degli indagati per una serie di reati tra cui estorsione, coltivazione di sostanze stupefacenti, concorrenza illecita, turbata libertà degli incanti, rapina e reati in materia di armi, tutti aggravati dalle modalità mafiose. Contestualmente all'arresto dei principali indagati sono state effettuate perquisizioni in varie regioni italiane, Abruzzo e Piemonte, anche in Svizzera, coinvolgendo soggetti presumibilmente collegati alle attività illecite in questione.